Musica E ciao ragazzi, siamo tornati in la sala giochi, piccole perle videoludiche della vostra infanzia in sala giochi, soprattutto della mia, visto che sono un vecchietto. Eeeh, quando ancora nelle sala giochi erano presenti i videogame in formato arcade e cabinato e non c'erano le slot machine dove le persone, diciamo, cretine, perdono i loro soldi. Eeeh, al giorno d'oggi giocare a videogame costa 70 euro perché ve lo dovete comprare per le console, all'epoca 200 lire le avevate nel camminato e ci giocavate quanto cavolo mi pareva. Allora, armate il nostro gioco a piedi fiducia attaccato al nostro pc, oggi non parlo, le parole proprio non escono, ed è lì di aprire questo nuovo titolo. Andiamo a parlare di un gioco che ha fatto storia in quanto gioco da tavolo più che videogames. Infatti, trattasi di Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons Tower of Doom, per la precisione. Pubblicato nel 1993, prodotto e distribuito da Capcom, non parlo proprio. Dicevo del 1903 di Capcom, è un picchiature a scorrimento orizzontale, nel più classico dei modi, con varie magie, cosette varie, tutte l'ispirazione di Dungeons & Dragons. E Tower of Doom, in particolare, si differenzia dagli altri beat'em up, in quanto il gameplay è un attimino più tecnico rispetto alla media. Oltre ai soliti attacchi di base, salto, pugno e cosette varie, ci sono anche gli attacchi forti, che si possono trasformare, si può eludere un attacco, si può accovacciare. Ci sono varie migliorie, che poi, a giorno d'oggi, vediamo nei giochi sullo stesso stile, diciamo. Abbiamo quattro personaggi da scegliere, tra cui la guerriera, la fighter, l'elfo, il nano e il chiarico, ovviamente, che è il mio preferito, tra le altre cose. Trama di questo gioco, chiamiamola più plot. La Repubblica di Darokin è sotto un assedio terribile, dà un numero spaventoso di mostri e non riescono a difendersi da ciò. Un gruppo di quattro avventurieri, che sono quelli che vi ho citato prima, vanno a salvare i vari settori che fanno parte di questo reame. E nel frattempo devono anche indagare, mandati dal Corvin Linton, su questi attacchi, rivelatasi essere un'idea di Arctic Deimos. Alla fine gli ammetturieri si dirigono verso la torre di Deimos, di Doom, e in un'altra battaglia la distruggono. Insomma, è un po' particolare come tramana cacata, insomma, c'è quello che invade questo cavolo di reame e i nostri quattro guerrieri amici. Devono far fuori tutti loro. Ok, direi di inserire le nostre due gentoli, le nostre due gentoli, perché abbiamo parlato anche abbastanza. E giochiamo a Dungeons & Ragon Tower of Doom. E abbiamo il guerriero, il chierico, il nano e la elfa. Di solito prendo il guerriero in questi giochi, ma voglio prendere il chierico perché secondo me è forte. See you live and morning. E vabbè, porca miseria, vabbè, insomma, devo scrivere il mio nome. Scriviamo le iniziali del canale. Dove lo sto scrivendo? Ah, è lì sotto. The Nerd Nerd Station. Ok. Salve! Help us, please! You hear scream from upheld. Ok. Allora, a questo gioco io ci ho giocato tantissimo a questi giochi. Sia a questo che all'altro. Infatti sono stati creati due giochi da Capcom riguardanti Digest in the Negoti. C'è neanche un terzo che si intitola The Chronicles qualcosa, ma non è stato creato da Capcom. E vi posso dire che questi sono particolarmente belli. E non semplici, eh. Per portarne a termine uno sarete costretti a continuare più e più volte. Ma è tanto che non ci gioco. E succedono queste cose. Ehm. Come potete vedere abbiamo una vita sola. Direi di continuare. Non potete cambiare personaggio. Eh, lo so, è una cosa un po' fastidiosa, però una volta che scegliete con quale personaggio affrontare la sfida, quello rimane. Help us, please! Somo handing to the mountains, but you are waiting for an attack on the town. On the town. Che vogliamo fare? Andare alla montagna che è sotto assedio dei monstri? O andare alla città? Città, montagna. Città, montagna. Città, montagna. Montagna. You find a cave that leads to the earth of the mountain. An anonymous roar below the pack. Caputtano, c'è versi di legge. Trex lead to cave. Anzi, il gioco merita. Anche per queste piccole intro. Ok. Non potete usare tutto quello che trovate, perché ogni personaggio, ovviamente, ha le sue abilità. E... Può usare solo ciò che gli è concesso dal video gioco, ovviamente. Ecco, ci sono le trappole che io prendo perennemente. Muori. Ehm. Mi continuo a raccogliere i gettoni e i soldi. E non mi ricordo perché. Abbiamo cinque martelli. Non mi ricordo come si lanciano. Questo no. Ora, con questi qua decido cosa usare. Perfetto. E così li usiamo. Ok. L'abbiamo sprecato, ma almeno... Perché il chierico, ovviamente, altri non è che un guerriero armato con delle magie. Ok. Un martello rimbalzato così alla rinfusa. Sarebbe bello farlo tutto, eh. Questo è un bel long play. C'è qualcosa lì dietro. C'è qualcosa lì dietro. Oh, la bella martellata l'ho usata bene. Una volta ogni tanto. Visto che c'era qualcosa... Ecco. Turning all the earth. Sembrerebbe infinito, quindi... Cosa stiamo facendo? No, sono curioso di vedere cosa c'è lì dietro. L'entrata è una nuova stanza, roba del genere. Ok. Sicuramente una di queste è una trappola. Ok. Questo lo prendiamo. E questa è una trappola. Non volevo uscire. E non ci si può più rientrare. Cercavo... Avevo cambiato magia. Che è quella contro i non morti. E va bene così. Ok. Mi servivano quelli che li avevo usati. Porca pupazza. Allora. Lui non è un non morto, quindi non gli faccio un'estrema pippa con quell'attacco lì. Potremmo ci stare sei ore per farlo. Vediamo se ci sono magari... Non voglio soldi, volevo potenziamenti. Ecco, come potete vedere, io nell'arco di quasi dieci minuti. È troppo lento nel fare la magia. Abbiamo questo anello. Vediamo cosa accade se lo usiamo contro l'energumeno. E' scappato. Ok. Direi, il gioco ve l'ho mostrato. Penso nella prossima puntata di far vedere l'altro gioco di Capcom, sempre ispirato a Dangerous and Dragons, che secondo me è anche più bello di questo. Vi consiglio di giocare, ragazzi. Se non ce l'avete, scaricatevi la ROM. Gira benissimo su Mame. Considerate che io sto registrando. Ho 4-5 programmi aperti, quindi è leggerissima. Quindi, se vi è piaciuto il video, cliccate e mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi pure alla pagina Facebook Google+. Link qua sotto in descrizione. Ecco a cosa servivano i soldi per comprare poi queste cose da un quadro e dell'altro. Condividete, come vi ho detto. Andate a vedere anche le altre recensioni. E come sempre, raga, mi raccomando, stay tuned. Ciao.